ora Diego Fusaro scende in campo a capo della rivoluzione proletaria per rovesciare lo sfruttamento capitalistico perché l'amico Dario Cilasaro mi ha mandato un magnifico video dove Diego Fusaro sparla contro la piccola criceta e dice che quella della piccola criceta è una favola bella che non serve a niente e che invece c'è lo sfruttamento capitalistico però Diego Fusaro ci dovrebbe spiegare come lo eliminiamo lo sfruttamento capitalistico perché non ti metti a capo dello sfruttamento capitalistico globale Diego Fusaro scendi in campo, mettiti a capo del proletariato mondiale sfruttato dallo sfruttamento capitalistico mettiti a capo, facciamo una bella rivoluzione come ci fu la rivoluzione francese e come ci fu la rivoluzione soviete scendi in campo la piccola criceta non vale un fico secco scendi in campo tu salvalo tu il proletariato scendi in campo scendi in campo e invece di chiacchierare scendi in campo fai come come la come si chiama quello di Cuba di Cuba Fidel Castro dai fai come c'è che vale scendi in campo invece di chiacchierare no io so soltanto che tu hai pietito hai pietito hai pietito nei confronti di David Parenzo hai pietito per andare in tv e David Parenzo ti ha dato del leccaculo pubblicamente e David Parenzo ha detto che se non ti calmavi lui pubblicava tutte le letterine che tu hai scritto a David Parenzo per apparire in tv allora tu ti sei ti sei intimorito e hai detto no David Parenzo tu non puoi pubblicare le letterine che io ti ho scritto per apparire in tv perché è proibito dalla legge se tu pubblichi le letterine che io Diego Fusaro ho scritto a te David Parenzo per avere qualche comparsata televisiva io ti denuncio ti denuncio ti denuncio ti porto ti porto un tribunale te porto io so soltanto questo ma no ma no mettiti a capo della rivoluzione mondiale proletaria no che cosa aspetti invece di stare lì a predicare e di pietire pietire per avere delle comparsate televisive scendi in campo scendi no mettiti a capo della rivoluzione proletaria per rovesciare l'infame patriarcal capitalismo e poi Diego Fusaro e se vuoi essere felici leggi le opere di Serafino Massoni Diego Fusaro capito Diego Fusaro capito Diego Fusaro capito Diego Fusaro e te l'ha detto te l'ha detto te l'ha detto te l'ha detto pubblicamente che sei un leccaculo te l'ha detto non ti basta questo Diego Fusaro ma dai fai come c'è che vada fai e tu Dario Cirasaro che mi mandi sempre le notizie su Diego Fusaro e ricordati che io ormai ricevo oltre 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 migliaia migliaia di messaggi tutti i giorni perché sono diventato abbastanza fumoso capito capito fumoso e faccio fatica ad accontentare tutti quelli che mi scrivono capito vabbè Diego Fusaro va bene il coso di Dario Cirasaro ecco io ho cercato di accontentarti però Diego Fusaro si è preso pubblicamente del leccaculo ci sono le lettere di David Parenzo e Diego Fusaro ha paura che David Parenzo le pubblica le lettere che Diego Fusaro ha scritto a David Parenzo per apparire in tv e ha minacciato di adire le vie legali Diego Fusaro ha minacciato David Parenzo e ha detto se tu David Parenzo pubblichi le mie lettere le lettere che io Diego Fusaro ho scritto a te per apparire in tv io ti denuncio perché tu non le puoi pubblicare le cose private pensa che vergogna caro Dario Cirasaro se io fossi se io fossi Diego Fusaro mi sarei sprofondato sotto terra per la vergogna capito? capito capito Dario Cirasaro va bene va bene cari amici non so se mi sono spiegato adesso aspettiamo che Diego Fusaro il bravo filosofo si mette a capo dalla rivoluzione mondiale proletaria per rovesciare il patriarcal capitalismo va bene? non fiori ma opere di bene Diego Fusaro non fiori ma opere di bene ok 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 cari amici a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni io che brutte cose che gli ha detto David Parenzo a Diego Fusaro gli ha detto sei un leccaculo pubblicamente pubblicamente Dio